Ma tu veramente non hai visto l'ultima tutina che è uscita da Bershka? No, perché io sto parlando di questa tutina Di questa tutina E adesso ce la mettiamo Cioè, io non so se vi è chiaro che ha un fit perfetto Perché stringe qui, sta stretta sulle gambe Cioè, fa una bellissima ciapetta Scusate, io dietro ho il reggisero e anche le calze alte Però comunque, infatti mi impariamo Cioè, immaginatevola con un bel tacco Un bello stivane per andare a ballare Anche se io ballando ci vado mai Però, insomma, non so se avete capito Non so se avete capito Grazie Bershka, grazie di esistere Ma quella è bella, cosa bella? È che non costa manco tanto perché mi pare che costa 25 euro Lo sta al cartellino 25, 25, 90, no Se vi va vi lascio il link diretto nel mio canale Altrimenti vi scrivo il codice qua sotto Ciao No, tu devi per forza avere il nuovo modello di jeans di Bershka Sto parlando di questo jeans qui Che durante il periodo dei saldi l'hanno messo su tutti i manichini Si chiama modello Wide Balloon Si dice così E adesso ve lo faccio vedere indossato Allora, eccolo qui Ha un fit meraviglioso Perché ha una vita altissima È stretto qui E poi sulle gambe si allarga benissimo Cioè, a me, oddio A me fa volare Allora, se siete un pochino più alti di me È anche meglio Io sono 1,64 Se fosse stato leggermente più corto T'errebbe stato proprio perfetto anche sotto Ma io tanto faccio il risvoltino Scarpette E abbiamo risolto il problema Colore pazzesco E, ripeto, mi fa proprio volare Ah, se volete vi lascio il link diretto nel mio canale Ciao